benvenuti amici youtube qui ocran 1993 video di oggi sarà un nuovo video di unboxing perché mi è arrivato questo bel pacchetto da fantasiastore.it è veramente grande la scatola non si riesce neanche a vedere tutta in camera quindi partiamo subito ma prima di partire iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un like al video se vi piace e condividete questo video con i vostri amici che amano yugi e in generale i giochi di carte collezionabili eccetera perché continua la collaborazione con fantasiastore che ringrazio tantissimo per questo invio e continuate a seguirmi ragazzi e soprattutto se volete che tutto ciò continui utilizzate il codice sconto ocram 5 che vi lascerò qui in sovrimpressione e sotto in descrizione per fare i vostri acquisti su fantasiastore e ottenere il 5 per cento di sconto sul totale e sulla vostra spesa fantasia ha tantissime recensioni su trust pilot è veramente stra affidabile potete stare tranquilli garantisco io e garantiscono anche i tanti altri utenti quindi direi di partire e andiamo a vedere cosa c'è in questa scatola che è una sorta di mystery box in cui potremmo trovare un po di tutto non so bene neanche io cosa andremo a trovare e partiamo e continuiamo questa fantastica collaborazione con fantasiastore se vi siete persi il mio primo video per fantasia lo lascerò qui in alto a destra ragazzi era l'apertura dei battle box in cui ho trovato una ghost e una ultimate battle box sono dei prodotti esclusivi che potete trovare solo ed esclusivamente da fantasia store sono stati fatti solo ed esclusivamente per loro e ci sono veramente tante carte belle belle tutti pack in prima edizione che contengono delle carte fantastiche come appunto la ghost che ho sbustato io ok allora siamo riusciti ad aprire riusciamo anche ad aprire qui senza sbattere contro la camera e che è fantastico andiamo a togliere un po di carta già nelle cose interessanti sotto forma di questa scatola che adesso andremo a vedere meglio nel dettaglio tra poco ok togliamo la carta abbiamo un bel pacco di dragon shield altre cose qui che vedremo con calma dopo adesso sposto lo scatolone questa qui che secondo me sarà molto bella tra poco vedremo anche questo ok allora spostiamo la scatola passate dai social di fantasia ragazzi mi raccomando mi lascio qua sotto in descrizione il tutto allora partiamo dall'ultimo oggetto perché ce l'ho ancora qui in mano trattasi del album di mascherina molto bello ancora più bello di persona perché non non pensavo fosse così foilato bello ip mascherina una delle carte più recenti iconiche di questo gioco che è uscita anche con quest artwork qui c'è lei sulla motocicletta e dietro anche questo non me lo ricordavo c'è invece l'artwork originale con i rollerblade molto molto carino quindi come vedete ci sono anche prodotti per poter conservare la vostra collezione di carte disponibili su fantasiastore.it utilizzate il codice sconto ocram 5 per ottenere il 5 per cento di sconto sul vostro acquisto poi abbiamo il play mat di ip mascherina anche questo fa parte del merchandising che sta andando veramente a ruba quindi non fatelo scappare perché in tanti posti è già finito invece da fantasia è ancora disponibile questo qui è il play mat nuovamente con entrambi gli artwork di mascherina quello nuovo che abbiamo visto nella maximum gold eldorado con la sinistra in moto che è veramente allucinante per non dire altro e poi quello a destra l'artwork originale di questo mostro link 2 che ultimamente non sta più vedendo tanto gioco ma secondo me rimane molto molto forte appena uscirà un altro link 3 o 4 con un effetto che si attiva quando entra sul terreno potrà essere interessante poi abbiamo buste dragon shield per proteggere le nostre carte molto belle mint quindi sul verde qui potete trovare anche sleeves qualsiasi cosa e prendere col 5 per cento di sconto quindi ragazzi non fatele mancare queste semplicemente sono delle sleeves e aprirò poi con calma poi abbiamo qua sono collati le sleeves di mascherina queste fantastiche sia per il main che per l'extra probabilmente se dicono un po di più sono 50 sleeve tournament legal ovviamente sono prodotte direttamente da conami ci mancherebbe molto belle anche qui abbiamo l'artwork nuovo in cui mascherina va in moto poi c'è anche un pacchettino qui dualist pack yugi edizione in italiano questo molto bello 5 carte per busta non so se aprirlo o se tenerlo sigillato perché comunque ho tanti pack io ho una collezione anche di pack sigillati e questo è un pacchetto bello bello che pian piano prende i suoi anni anche questo perché a me sembrano cose recenti ma sto invecchiando qui ragazzi quindi adesso vediamo un attimo se aprire questo o meno e poi l'ultima cosa che ancora non conosco wow ma vedo anche che sei personalizzata ok allora questa qui dovrebbe essere una t shirt che mi hanno offerto di cui sono veramente molto contento e fiero ringrazio il team di fantasia per avermi supportato avermi scelto in questa collaborazione questa sicuramente l'andremo ad indossare nei vari video una t shirt personalizzata di fantasia bella okram 1993 fantastica veramente veramente bella nera pulita molto clean senza nulla di esagerato poi sul retro vediamo un po bellissimo fantastica che bella ragazzi team fantasia ok quindi posso dire ufficialmente di far parte del team fantasia ne sono veramente veramente orgoglioso ringrazio veramente tanto il team di fantasia appunto per avermi dato questa fantastica opportunità ragazzi poi dipenderà anche da voi lo ripeto nuovamente se volete sostenermi a voi non costa nulla se dovete fare i vostri acquisti fatevi utilizzate solamente il codice sconto okram 5 per acquistare i vostri prodotti su fantasiastore.it ok questa era la maglietta molto bella e quindi ragazzi direi che per oggi è tutto fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi piacciono questi prodotti se volete magari io faccia un giveaway di qualcosa magari di delle sleeves di mascherina se vi piace una cosa molto probabile quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un like al video se vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici che amano yugi e mi raccomando passate dalle social di fantasiastore.it e utilizzate il codice sconto okram 5 per ottenere il 5% di sconto sui vostri acquisti e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti